Alla Casa delle Culture e del Volontariato Letizia Colaianni si sono riuniti i tre tavoli tematici che compongono la rete territoriale, uno sulle responsabilità familiari, uno per la non autosufficienza ed il terzo per l'inclusione sociale. L'incontro arriva dopo la Costituzione della Rete per la Protezione e l'Inclusione Sociale, che con il Comitato dei Sindaci e l'Ufficio Piano, nella nuova struttura di governance prevista dalle linee guida della legge quadro per la programmazione del Piano Zona 2021, per organizzare il funzionamento del distretto sociosanitario 8 a cura del Comitato dei Sindaci. Lo scopo è quello di favorire un'erogazione omogenea di servizi ed interventi e di supportare il distretto sociosanitario nell'elaborazione del piano di zona e del piano attuativo locale e del piano distrettuale per la non autosufficienza. I soggetti della rete che appartengono al terzo settore sono stati individuati successivamente a una manifestazione di interesse inviata al Comune di Caltanissetta. Ne fanno comunque parte di diritto i referenti del forum del terzo settore. La rete territoriale si articola in tre tavoli tematici collegati da altre tante aree di intervento, una riguardante le responsabilità familiari, una per la non autosufficienza e l'ultima per l'inclusione sociale. Tra i componenti del tavolo tematico sulla non autosufficienza è stata nominata come portavoce Maria Grazia Pignataro, presidente dell'ISPED, il cui compito sarà quello di raccordarsi con cadenza periodica con i responsabili dell'ufficio di piano riguardo alle attività realizzate dal tavolo e successivamente si passerà la nomina del portavoce anche delle altre, i due degli altri tavoli tematici. Dice Pignataro, questo è un momento fondamentale di realizzazione di una delle forme più significative di democrazia partecipata, dove cittadini e cittadini potranno esprimere i loro bisogni e le loro aspettative collaborando con le istituzioni per raggiungere obiettivi concreti e a favore delle persone con fragilità e garanzia della loro qualità di vita e dei loro diritti di cittadinanza.